La partita che non ti aspetti, quella che a fine gara lascia tutti a bocca aperta, stupiti di quanto è accaduto. Ebbene la Juve Caserta, nel momento peggiore della stagione, priva di due americani e con Michelori a mezzo servizio, rugisce davanti ad una Virtus inerme e ad un flebile rassegnato pubblico, portando a casa due punti dal valore inestimabile. I primi dieci minuti sono abbastanza equilibrati e caratterizzati dalla fisicità di Achindele sotto le plance e da un'intensità difensiva non indifferente. Tanta pressione sul perimetro e ginocchia sbucciate per Maresca e compagni, lanciatissimi su ogni pallone vagante e capaci di sporcare diverse linee di passaggio avversarie. Un attacco macchinoso e poco fluido, però complice anche la discreta difesa avversaria, impedisce alla Juve di compiere il proprio gioco ed allungare il vantaggio altalenante tra le tre e le cinque lunghezze. Sacripanti, però, con una panchina più corta del solito, indovina tutti i tipi di cambio, facendo rifiatare i titolari nel modo giusto e trovando nei giovani cefarelli e marzaioli contributi preziosi, soprattutto in difesa. Nella ripresa mordente prende sulle spalle i compagni con missili dall'arco dei 675 e penetrazioni con tanto di falli subiti che solo uno con la sua esperienza poteva farsi sanzionare. Nell'ultimo periodo è gentile a togliere le castagne dal fuoco con due triple consecutive nel momento topico del match, che mandano in delirio il palamaggio. Poeta e compagni, dunque, possono fare davvero poco se non restare a guardare lo show bianconero degli ultimi minuti. A fine gara applausi scroscianti per un condottiero e otto uomini dal cuore d'oro, che nonostante le difficoltà economiche della società hanno dimostrato, con voglia, grinta e cattiveria agonistica, di amare la propria casacca. Grazie.